L'uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi. Chiamateli forze sovrannaturali oppure intervento divino. Ciò che è certo è che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio. Abbiamo qua quello che ho di Berserk, che è l'unica opera veramente da ricordare del povero Compianto. Il relupo poi erano due albi soli. Japan 1, il relupo 2, vabbè, lasciamo perdere. Oggi rendiamo omaggio al Compianto Kentaro. Esatto, con due bellissime action figure anni 90 della Art of War, dove c'è Gatsu da giovane e Gatsu un po' più da vecchiotterlo. Quando era un ragazzino proprio. Era proprio un bambino, di quando faceva il soldato. Quando faceva il soldato che spacca la capoccia a quello lì con... Come diceva la canzone, ho lasciato la mamma mia, l'ho lasciata per fare il soldato. E questo è lui. Ok. E poi vabbè, poi insomma c'è sta Gatsu quando è più grande, infatti qui già ha la mano con... Cioè non c'ha più la... Con il bazooka, vedi, non c'ha più la mano. Ok. Che è metallica. Tra l'altro stupende. E poi abbiamo una bellissima statua in resina, probabilmente tarocca, sempre anni 90, acquistata da un nostro fantastico... Ciao Ivano. Ciao Ivano. Acquistata da una, credo, Expo Cartoon di Roma. E andata a quasi mille pezzi. Fabio continua a mettere la sua... Dai vai a cantare che hai rotto il cacchio! Voi te lo fico, ti dico io sto cazzo. Sì, morale della favola, quella resina era in frantumi. Esatto. E lui che sta dietro la telecamera l'ha rimontata e ridipinta in maniera favolosa, ragazzi. Vabbè, non esageriamo. No, no, è stupenda. Non so se riesce a far vedere la base. La base è la parte che è venuta meglio. Esatto, la base è quella che è venuta più bella. È meravigliosa. Purtroppo... Cerca di farla vedere perché è veramente... Non c'avevo ancora un aerografo al tempo. E quindi l'ho fatta tutta a pennello. In più era tantissimo che non dipingevo. Purtroppo è impossibile mettere a fuoco questo... Beh, ma riusciranno a vederla uguale comunque. Questo modello. Magari poi postiamo delle foto, che ne so. Sì, 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 facciamo magari delle foto dettagliate, le mettiamo su Facebook, le mettiamo... Però sì, è... Andate sulla pagina dei 3 a 0 su Facebook e non pubblicano quasi un cazzo. Comunque era un bel modello perché è gigante e fa la sua porca figura. C'aveva anche un mantello... 40 centimetri. Sì, c'aveva anche un mantello che era praticamente ridotto a... Letteralmente a... Brizolano. E quindi ho deciso di cassare quello. E quindi abbiamo messo qua queste tre figure, diciamo, bellissime di cazzo. Motonofico, te lo dico io, sta a parte perché stai buono. La mano di ferro. Esatto. Il cannone. Tutto quanto ciò perché oggi il postino mi ha portato questa cosa che adesso noi stopperemo che mi ha rotti i coglioni. Questa... Scansa Fabio, scansa. Esatto. Questa nuova, diciamo, statuetta a barra figuri in plastica della... Che cazzo è? Della Pop-up Parade. Pop-up Parade. Parade. Beh, in realtà c'è stato scritto Max Factory. Ah, quindi è della Max Factory. Max Factory è quello che fa i trucchi per le donne, giusto? Quindi è della Max Factory, linea XL, cioè quella più grossa, di una figura apposa fissa di Gatsu Lupo, con la corazza da Lupo. Da Berserker. Da Berserker. E che non ho ancora aperto e ho aspettato proprio questa sera. Dopo la finale dei mondiali. Per aprirla sì che purtroppo il barocco è stato cacciato. No, la finale, non abbiamo appena visto la finale. Sì, il barocco è stato cacciato. Il barocco è stato al finale, cazzo vuole. Il barocco è... Sì, noi veniamo da un universo parallela. Un universo parallela. Esatto. Nella quale ho deciso, perché il collezionismo è il collezionismo. Paolo ci viene prigionieri, siamo qui contro la nostra volontà. Ma sta pensito, che sto curioso di vedere sta cacchio dei figuri, se è bella effettivamente. Hai visto che c'era quella schiavizzata in casa, l'hanno liberata di spiriti oggi o ieri. No, ha niente polistirolo. Mi raccomando, niente polistirolo. Non è un ammonimento, non è una statua da 9.000 euro, quindi perché utilizzare polistirolo quando puoi utilizzare della plastica accia, dei mortacci vostri. Ci sono anche delle componenti da utilizzare. Dallo a te, ma che è davvero? Sì. La capocchia. Ah no, perché diceva Paolo che ci sono due teste distinte. Sì, ci sono due teste, una con gli occhi accesi, se non mi sbaglio, e una con gli occhi spenti. Mi strappare una vena. Ci dovrebbe... Non c'è? No, no, c'è soltanto i tappetti. No, separala, separala. Fermo. Ah, c'è? Ci sta, ce lo mettono sempre. C'è dello scotch molto trasparente, visto che io sono cieco, non vedo una sega. Cioè, qui sembra, vedete, stiamo rubando delle opere d'arte in un museo, guarda che... Senti, l'ho pagata questo affare, quindi... Quanto l'hai pagata, intanzitutto? Allora, questo ordinato in Giappone, orientativamente, è un centinaio d'euro. 100 euro per la Berserker Armor di Guzio, che è un po' per... Però sono un altro di dimensioni... Artistici. Ragguardevole. Decenti, in po' bello. 30 centimetri, zoom, zoom. Di dimensioni artistica. Ed ecco qua il ragazzaccio. Oh, allora, ci abbiamo la basetta, che quindi... In vera plastica. In vera plastica. Nera. Ma quella collezione lì... La basetta è scrausissima, non c'ha nessun dettaglio. È vero, dite. Poi, plasticona... Che non fa mai nare. Allora. Perché non... Tra l'altro, puzza. Puzzica. È il classico odore di fabbrica cinese. Sì, sì, assolutamente. Puzzica di mamma mia. Hai su un gruppo, almeno un paio di bambini. Mamma mia, odora di poti solventi letali. Sì. Porca pittà. Puzzica di mamma mia, per tenere gli spegni e gli spegni. Ma no, no, davvero. Allora, di prima kit ti dirò. È plastica. Sì, è plastica, però non sembra male. Tra l'altro vi sconvolge se le hanno usate abbastanza a lungo. Credo di sì. Gli hanno fatto delle presine. C'ha delle presine. C'ha i guantini e una testina addizionale. Che si uscirà... Nella quale... Fabio, taglia lo scotch e tieni fermo. Sì, vedi un po'. I guantini. Senza rompe niente. Nel frattempo io scarcherò la spada. Vai, vai. Che è l'unica fatta interessante. E è incollata all'interno della borsa. Sì, pure quest'anno non è che sia. Ci sono le punte del mantello. E poi è il mantello. La coda, tipo. Non riesco mai a mettere a fuoco niente. Che queste sicuramente si interrompevano. Quindi hanno messo un po' dei vantini intorno. Allora, questa testa montata, secondo me, è più figa perché c'è... È quella con gli occhi accesi. Esatto. E quell'altra invece. La seconda, niente, c'è l'occhietto spento. Vedere un po' la testa. Ma la testa invece che il rosso. Se riesco a mettere a fuoco. Quindi questa va proprio... Ma c'è un bel dettaglio, diciamo, della texture dell'armatura. Questa penso che sia differente, no? Per lo scambio delle testine, qui c'è scritto che la seconda testa, quella che ha appena fatto vedere Guido, può essere collegata con il Mist Light 316R venduto separatamente. Che cos'è il Mist Light? Ah, per accendere gli occhi. E non viene venduto insieme? Sold separatamente. Cioè io ho pagato e non ho quell'accrocco in più? Quindi gli occhi questi che rimarranno comunque spenti? Quindi probabilmente sarà tipo... Delle rosalpite, un scambicino. Sì, esatto. C'è un buco per tipo una fibra ottica stupida. Sarà un'altra fibra ottica pure testa, sì. No. Come potete vedere... No, lo devi ruotare. E' così, ecco qua. Allora, io devo dire la verità, è molto carino. Hai visto come si fa? Devi capire chi è il padrone. Devi capire chi è il padrone. La spada va smontata. Ah, si stappa la spada. Ah, ok, perché si passa il manico all'interno della mano. Ok, vai. Tanto lo togliamo. A questo punto mettiamola subito qua sopra che sta più alta, che dici? Aspetta che ti ricomponga la spada. Aspetta che ti ricompongo la spada. Vai. Cioè, porca troia, ma quello che accende l'occhio mi tocca pagare la parte. Saranno grossi i cazzi. Non lo fai? Anche perché poi non ho capito da dove... A parte che probabilmente sarà un... Credo che questo, quelle parti, quelle di rosso. No, d'accordo, ma il punto è, o è un oggetto così piccolo che è completamente contenuto lì dentro. Ah, tu. Oppure bisogna far passare il capo da qualche parte. Forse è proprio completamente contenuto in questo tubicino. Pronto? E qui c'è la testa di ricambio. Tanto l'ha fatta, vedo il guido. Sì, sì. Avvicinalo. DPU. Ok, vale. Bene così? Sì. Allora, io non sono un grandissimo amante di Berserk, però effettivamente i primi fumetti erano interessanti. I primi 40 numeri sono una figata. Nella serie normale, non dalla collection. Quando ha cominciato a smettere scrivere lui come Masamune. Sì, sì. E a passere lo scrivere a chi gli pare è diventato un party game. Poi ha decisamente allungato il brodo. All'inizio era molto... Diciamo... C'erano molte cose che succedevano. No. Dopo ha cominciato a tirare le lunghe alla grande. Disegni bellissimi. I disegni all'inizio erano stupendi. Effetto movimento della battaglia, una figata tremenda. La storia era figa. E poi dopo è andata tutto all'acqua di rosa. Sì, oramai è diventato un fantasy praticamente. Poi non si sa adesso quello che cazzo vuono fa. E quindi niente. No, comunque parlando della figure, a me non mi sembra male. Sì, non so quanto si vedrà bene dalla telecamera perché è tutta scura. È tutta scura. Però... Non so quanto effettivamente possa valere la cifra che io ho tirato fuori. Però devo essere sincero. Non mi sembra male. Non è male. Non è male. Quindi... Max Factory. Ha fatto un buon lavoro. 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 Un po' di Roduta o Roduta? Roduta è un mostro di quello. Roduta è uno dei mostri di Godzilla. Un po' di rossicata di culo perché dovrei ma non lo compro. Non giocava nel Marocco. Da Crocco per illumina gli occhi sinceramente. Adesso lo posso controllare. Io pensavo che veniva insieme a... Magari costa un euro. A Stacrocco. Vai, vai. Un slide 316R. Com'è il pop-up? No, pensavo 316 euro. Pop-up Parade. Un po' parto, un po' parto. Max Factory, che ne so io. Ma forse lo vendono quelli che fanno il make-up, questo... Eh, dobbiamo chiedere la Max Factory. Secondo me era... Sì, era una mazzata. Peccato, però. Pensavo... Allora, ecco qui. Led 316R. E quanto viene? 1.300R. Visita. Vediamo quanto crocca... Quanto crocca. 2.89 in vendita su Hobby Link Japan. 2.89? 3.000 yen? 2.89 euro. Ah, ok. Pensavo che... 3 euro. Ce lo potevano mettere. pure dentro però la confezione. Sono proprio dei poveracci. Però se vuoi lo vuoi comprare, yellow, white, yellow, yellow, green, and blue. Cioè, che stronzate è? Per 3 euro, davvero. Pitocchiosi. Repeat after me. Vabbè, ragazzi. My name is Roy Austin. Che stai ricordando? In questi giorni faremo anche delle foto, così pubblicheremo le feste. E ordineremo in Winni-Light 300 Mist Light. Sì, ma la spedizione la voglio gratis, però col cazzo. Tanto non te lo spediscono. Eh, allora, capito, lo spende 15 euro e fammelo spedire. Ci muovemente uno Starlight di quelli da pesca dentro. Molto piccolo. Ragazzoni, dite che ne pensate. Come al solito, iscrivetevi al canale perché ce ne mancano 5 per arrivare a 300. Dai, ragazzi, 300 iscritti. Minchia. Dobbiamo fare la live per i 300 della costruzione, l'assemblaggio del... Dai, dal 3 del super mini plat, della Bandai. Sarà un piacere. Dai, che Guido c'ha voglia. Fremono proprio le mani, bro. Non vede l'ora di montare la Match Patrol. Che bella sta stata. Oh, e dopo la benedizione di Fabio, che ha detto che è figa. A posto. Ragazzuoli, ci becchiamo alla prossima. Ciccia. Ciccia.